Grazie, buonasera a tutti. La storia per me è davvero una passione, è una passione particolare che si concentra soprattutto nel nostro territorio perché amo la storia locale, amo soprattutto la storia orale e il recupero delle biografie femminili. La storia da insegnante la reputo e in generale da cittadina la reputo uno strumento importante per la formazione della persona perché possa essere da adulto un interprete della cittadinanza attiva e quindi se la storia è importante è giusto che il racconto della storia sia completo. Purtroppo la storiografia fino adesso non ha dato conto di una gran parte del protagonismo della nostra storia. Diciamo che il passato è rappresentato come se fosse stato realizzato soltanto da una parte di umanità che è quella maschile, che è quella che ha governato la scrittura della storia e quindi scritta dagli uomini e per gli uomini e in generale per gli uomini importanti ha ovviamente trascurato una parte importante di soggetti che ne hanno fatto la differenza e quindi il recupero della storia femminile, della storia delle donne ha anche significato in qualche modo il recupero di una parte di protagonismo della storia che può essere riferito alle persone comuni, anche ai tanti uomini non importanti che pure hanno dato il loro contributo a che gli eventi si dipanassero nel modo che noi conosciamo. Quindi direi che l'impegno di parlare, di recuperare, di scoprire quello che le donne hanno fatto è importante proprio per dar conto di come sono andate le cose e di quello che le donne sono riuscite a fare grazie alla loro tenacia, alle loro competenze, alla loro volitività. Diciamo che da che le storiche italiane hanno avviato questo percorso è cambiata un po' la prospettiva e direi che possiamo dire che essere riconosciute per quello che si è fatto è stato sicuramente importantissimo e ha fatto in modo che si potessero in qualche modo definire momenti della storia che in passato erano stati guardati e studiati senza tener conto di alcune parti importanti. Allora, inizierai subito dal fatto che per esempio l'utilizzo dei termini, l'utilizzo del lessico ha condizionato moltissimo anche la interpretazione di quello che è accaduto, di quello che leggiamo sui manuali di storia. Pensiamo all'utilizzo della parola uomo che viene indifferentemente utilizzato per indicare uomo, uomini e donne oppure pensiamo al termine universale. Per universale si intende tutto ma in verità la maggior parte delle volte nei libri di storia leggiamo universale per intendere soltanto la parte maschile. Un momento importante nel recupero di una visione giusta del racconto della storia è stato sicuramente il centocinquantesimo dell'Unità d'Italia perché in quella circostanza c'è stata una produzione importante di ricerche che hanno portato fuori profili di donne di levatura intellettuale altissima ma anche donne semplici che hanno dato un apporto irrinunciabile all'affermazione degli ideali liberali e degli ideali risorgimentali. Un po' nell'idea nostra del risorgimento pensiamo ai valorosi che hanno fatto tutte le imprese che sappiamo, se parliamo di donne pensiamo alla contessa di Castiglione e quindi abbiamo un'idea di grinoline, di salotti, invece assolutamente no. Sono venute fuori storie di tantissime donne che hanno fatto la differenza, donne che hanno gestito dei salotti ma dai quali si disseminavano e divulgavano gli ideali importanti e la forza e il coraggio per fare delle imprese anche delle battaglie, partecipare ad eventi che hanno cambiato il corso della storia e quindi abbiamo delle combattenti, abbiamo delle banchiere, le infermiere, addirittura una cannoniera che ha risolto una battaglia in Sicilia. Le donne insomma hanno dato tanto senza trascurare peraltro quella parte importante della nostra vita che è l'amore materno o l'amore per il valoroso compagno che sicuramente è stato valoroso. Riconoscere la storia come fatta anche dalle donne non vuol dire diminuire quello che è stato fatto dagli uomini, vuol dire dare la completezza della visione di quello che è stato e appunto se la storia è uno strumento deve essere raccontata nel modo giusto. Pensiamo alla rivoluzione francese, allora si dice che gli uomini nascono e restano liberi e uguali nei diritti, cioè è un'affermazione che ci dà il senso della conquista della libertà. In realtà nel 1793, quindi proprio nel pieno della rivoluzione, Robespierre di Gliottina Olempe de Gouges, che è un'icona dell'emancipazione femminile, era stata costretta a scrivere la dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, perché la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino in realtà non corrispondeva a quel senso di universalità che invece dovrebbe connotare l'acquisizione e l'esercizio dei diritti se questi sono davvero universali. A questo proposito credo che sia importante pensare che l'emancipazione delle donne e quindi la conquista di una riconoscibilità nelle cose che hanno fatto e che fanno passa sicuramente per la conquista dei diritti civili e dei diritti politici. Ma se pensiamo che nel 1906, il 25 luglio, per la precisione, venne emessa una sentenza storica proprio dalla Corte di Appello di Ancona, da un giurista che sarà poi importante per la storia del nostro paese, che si chiamava Ludovico Mortara, sotto l'impulso e la sollecitazione di donne abbastanza straordinarie, tra le quali Maria Montessori, dieci maestre anconetane chiesero di essere iscritte nelle liste elettorali della provincia di Ancona. Il giudice Mortara era totalmente contrario a che le donne votassero perché credeva che le donne non fossero in grado di poterlo fare. Ciò nonostante il suo rigore di giurista gli permise di leggere nell'articolo 24 dello statuto Albertino, effettivamente che non c'erano impedimenti espliciti a che le donne potessero esercitare diritto di voto. Nella fattispaio c'erano delle suddite che erano alfabete e avevano anche un reddito, quindi ci stava. Questa sentenza scombinò completamente le questioni in tutta Italia, per cui il grande movimento di reazione che si ebbe portò nel maggio dell'anno successivo all'annullamento di quella storica sentenza, per cui le donne marchigiane, le donne italiane dovettero aspettare 40 anni per arrivare all'esercizio del diritto di voto, perché badate bene il suffraggio universale in Italia è del 1946, non è certo del 1913 come si legge sui libri di storia perché quello era suffraggio maschile, universale non è maschile, universale è maschile e femminile. Un'altra prova di illusione di raggiungere l'istituzionalizzazione di un ruolo importante nella vita pubblica del nostro paese, lo leggiamo, lo vediamo durante il regime fascista. La donna era importante perché aveva un ruolo importante, ma qual era? era quello di essere procreatrice, la fattrice che doveva far nascere, procreare e allevare i soldati per la nostra patria perché bisognava conquistare e colonizzare il mondo. Chi non si conformava a quel modello scandito dalle regole del regime era in qualche modo emarginata o comunque perseguitata, se non addirittura neutralizzata con il manicomio. Moltissime sono le donne chiusa in manicomio durante il regime. Eppure è proprio durante quel ventennio che le donne italiane danno una grande prova di se stesse e elaborando un forte spirito antifascista e poi partecipando anche alla resistenza in modo sicuramente determinante, molto più di quanto poi la storia ci abbia raccontato negli anni successivi. E dunque, che dirvi, per me è veramente entusiasmante quando vado a ricercare tra gli archivi oppure nei racconti, ancora nei racconti delle persone, le notizie e quanto possa essere utile per ricostruire il profilo di alcune donne. Tengo particolarmente alle donne marchigiane perché ne abbiamo esempi davvero straordinari e sebbene noi siamo considerate una regione marginale, di fatto abbiamo dato il nostro apporto sostanziale allo sviluppo del nostro paese. E tanto per dirvi qualche figura, oltre alla Montessori, Maria Montessori che è stata una pedagogista riconosciuta a livello internazionale e per ben tre volte candidata al premio Nobel per la pace perché è stata una grande difensora dei diritti civili e dei diritti personali. E per esempio Adèle Bey che è stata lei di estrazione molto semplice, era di famiglia operaia e lei stessa era un'operaia. Durante il fascismo fu perseguitata per le sue idee contrarie al regime, fece anche il carcere duro perché il tribunale speciale ne sancì paurosamente la sua reclusione, è stata una delle madri costituenti. Devo assolutamente parlarvi di due donne straordinarie della nostra città che sono Franca Maria Matricardi che in quello stesso periodo si laureò in ingegneria, è diventata negli anni 60 una manager dell'editoria italiana e milanese straordinaria, durante gli anni del liceo fu nuotatrice della squadra nazionale italiana, sciatrice, scalatrice. Pensate che vinse una borsa di studio negli Stati Uniti e prima di andare nel 39 in America aveva già volato in Europa e aveva preso lezioni di voto di volo da Italo Balbo. Lei apparteneva a una famiglia molto agiata e protagonista della vita della nostra città ma c'è un'altra donna che vive ancora e che è ancora in grado di darci un'energia incredibile nelle cose che fa e da Egidia Coccia. Lei invece è una donna molto semplice che durante la resistenza le uccisero il promesso sposo. Si aderì alla lotta armata e diventò la postina perché conosceva molto bene l'alfabeto Morse e quindi era una porta ordini che comunicava le notizie fondamentali alla banda Blick che si trovava nei boschi tra Castignano e Rotella. La notte portava degli zaini che arrivavano a pesare anche 20 chili pieni di fucili, di armi e di munizioni. La sua storia è stata una storia di dolori, di difficoltà ma anche di grandi gioie vissute all'interno anche di quelle esperienze così impegnative. Ancora oggi quando viene a scuola e approccia con i ragazzi facendogli questa domanda voi quante paie di scarpe avete? Perché lei in realtà non aveva le scarpe, aveva solo degli zoccoli scavati nel legno coperti da pelle di coniglio che si strappavano con niente, con l'acqua, con un urto. Eppure nonostante i piedi scalzi le sfide della vita le ha vissute tutte da vittoriosa e continua ancora oggi, lei è nata nel 24, continua ancora oggi ad avere un'idea propositiva del futuro e a contaminare quell'energia fondamentale che serve davvero per andare avanti. E poi che dirvi per esempio delle tante vergare che nella nostra regione con la loro sapienza e con i loro mestieri hanno in qualche modo traghettato l'economia della nostra regione verso l'industrializzazione perché quella loro sapienza è poi diventata in forme più elaborate la microimprenditorialità che è un modello anche al di fuori della nostra regione. E poi che dirvi per esempio delle balie di ripatranzone che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento da sole andarono in Egitto per svolgere il loro lavoro di balie presso le famiglie europee che là si erano trasferite per i lavori del canale di Suez, le quali ovviamente hanno sfidato le convenzioni, hanno superato paure, hanno lasciato i loro affetti ma per portare, per restituire benessere alla loro discendenza e allo stesso tempo degli stili progrediti di vita dai quali non si è tornati indietro. E quindi che dirvi, parlare di storie delle donne ovviamente avete visto che mi infervora molto, mi entusiasma molto però penso che sia necessario sia necessario parlarne alle donne e agli uomini soprattutto per evitare alle donne l'automarginalizzazione e agli uomini per far capire, per dargli l'opportunità di conoscere come la dignità delle donne sia esattamente pari a quella degli uomini. E in questo modo sconfiggere quegli stereotipi che ci rovinano la vita e che spesso producono comportamenti di sopraffazione, di predominio e spesso di violenza delle quali purtroppo noi di quella violenza sappiamo quanto sia brutto e che brutto peso abbia la nostra società. Vi ringrazio, sono riuscita a non sconfinare ma ho tralasciato sicuramente tante donne importanti. Grazie.